Affissi famosi quadri che decretano il giudizio finale sui candidati agli esami di Stato 2013, adesso per i maturandi non resta che pensare al futuro e godersi la meritata estate. Quest'anno le commissioni sono state più rigide nell'attribuzione del voto finale di diploma un po' in tutte le scuole d'Italia. Sono oramai stati archiviati i giorni più temuti di ogni esame di Stato, ossia il primo giorno, quello nel quale ci si ritrova per la prima volta al cospetto della commissione. Il secondo con la prova d'indirizzo ed il giorno degli orali, quando si doveva sviscerare il proprio sapere, soprattutto davanti ai commissari esterni. Poi alla fine, passata quell'ultima ora di alta tensione, si attende il giorno dell'affissione del famoso quadro. Negli istituti scolastici di Favara si sono registrati ben 800, risultati che testimoniano l'impegno e la responsabilità messi in campo dagli allievi durante il proprio percorso formativo. All'alberghiere commerciale Ambrosini sono stati cinque, di cui uno con l'ode. Si tratta di Riccardo Navarra, della Quinta A, Oriana Maria Torna Bene, cui è stata attribuita la lode, e Veronica Veneziano Broccia, della Quinta F, tutti del settore ristorazione, Desi Pecoraro, della Quinta G, del settore turistico, e Valentina Nobile, della Quinta A, del settore aziendale. Al liceo King i centisti sono stati tre, Elisa Lucia Cavaleri, della Quinta D, Giuseppe Iacono, della Quinta F, ed ancora Tania Vitello, della Quinta G, tutti dell'indirizzo scientifico.